già ho il gomito, in casa ho tanti due bracci questa mano è qua, questa è libera poi qui si qui o qua, oppure se lui arriva con l'altro pugno ho il gomito o l'altro braccio ok, andiamo sempre assolutamente qua, gli stacco la mano dal corpo e comincio a ruotare però aderente al corpo se il caso prenda le prime decennità riesco a prendere le prime decennità indice e medio a motta, apro, apro e vado giro